Il cartigliano torna a fare quello che gli riesce meglio, giocare bene, concedere poco o nulla all'avversario e vincere con merito senza sentire il peso dello stadio e del tifo. Fare bottino al baracca di Mestre non è cosa da poco, gli uomini di mister Alessandro Ferronato ci riescono grazie ad una perla su punizione di Lorenzo Barzon a inizio gara e poi controllando senza affanni le incursioni degli arancioneri, fermi a zero punti dopo tre giornate. Il cartigliano si porta a casa dunque la prima vittoria stagionale e al tempo stesso il primo clean sheet. La difesa biancazzurra ha fatto rivedere la solidità che l'ha contraddistinta per tutta la scorsa annata. Soddisfatto a fine partita Ferronato. Finalmente abbiamo vinto una partita sofferta perché sapevamo che l'avversario era un avversario forte che veniva anche da un periodo non positivo quindi con una carica agonistica importante oltre alle qualità dei giocatori e siamo stati bravi a tenere il risultato fino alla fine dopo il gran gol di Barzon. Prossimo impegno nel turno infrasettimanale di mercoledì 28 in casa contro l'Este.